Il comune di Trani ha un assessore alla gentilezza. L'incarico è stato dato all'avvocato Cherubina Palmieri già nella giunta di Amedeo Bottaro con delega a gare, contratti e contenzioso. Il decreto è stato firmato ieri 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza, istituita 21 anni fa per ricordare l'importanza del rispetto. Verso il prossimo, Francesco Rossi. Questa è una scuola gentile, questo manifesto che accoglie gli studenti, i professori, anche il personale e i tanti cittadini che si affacciano in questo giorno dedicato alla gentilezza. Perché? Questa è davvero una scuola gentile perché è la cultura che ingentilisce l'uomo. Soltanto la consapevolezza del gesto, del passato, la possibile proiezione positiva del futuro rende l'uomo colto e quindi gentile. La nostra oggi è una risposta anche al territorio con la vicinanza dell'intera comunità, io ritengo cittadina e scolastica, rispetto anche all'atto vandalico che il liceo scientifico il 28 ottobre scorso ha subito del tutto inopinatamente ma subito ha reagito anche grazie all'intervento delle istituzioni che, devo dichiararlo pubblicamente, ci sono state vicine. Per cui entro le 24 ore successive la scuola ha raggiunto la sua piena funzionalità assicurando il servizio naturalmente al territorio. Gentilezza. Noi presidiamo con la gentilezza e vorrei dire con la cultura il territorio di appartenenza. Sindaco, la novità di oggi è che Trani ha l'assessore alla gentilezza. In cosa consiste? Beh, è chiaro che ho accolto una proposta, peraltro che proveniva appunto dai ragazzi, quello di istituire l'assessorato alla gentilezza. L'abbiamo fatto oggi, ho appena firmato il decreto con il quale istituisco l'assessorato innanzitutto alla gentilezza e ho conferito la delega all'assessore Cherubina Palmieri. In che cosa consiste? Consiste fondamentalmente innanzitutto dare risalto a un aspetto importante, per non dire fondamentale, della nostra società, e cioè le buone maniere e la buona educazione, che va però molto oltre alla buona educazione e alle buone maniere, ma va a dare importanza a che cosa? A dare uno sguardo agli altri, avere sempre uno sguardo nei confronti dell'altro e non di se stesso, che significa in termini pratici avere rispetto, avere una sensibilità nei confronti degli altri, andare incontro sempre agli altri, avere quindi uno sguardo più rivolto agli altri che non a se stesso. Un compito complicato, soprattutto in politica, la gentilezza in politica sembra uno simolo. La vita politica in realtà è la nostra vita quotidiana, per quanto molto spesso noi possiamo dire che la politica non ci interessa, in realtà politica è vivere nella società. Abbiamo accolto con favore la richiesta che era firmata, sottoscritta dagli alunni della scuola d'annunzio. Questo era un chiaro segnale che ci veniva dal mondo della scuola, perché non era la dirigente a firmare la richiesta, ma erano i bambini e l'abbiamo accolta con favore. Abbiamo poi condiviso la scelta di fare questa manifestazione in questa scuola, perché con il sindaco abbiamo pensato di rispondere agli atti vandalici che proprio in questa scuola ci sono stati con parole nuove, quelle della gentilezza e della cura dei luoghi e delle persone.